benvenuti amiche oggi pasta e fagioli vi lascio gli ingredienti ed è basilico guanciale vi servirà delle cipolle novelline vi servirà del sale quanto basta del buon olio extravergine e vi serviranno dei fagioli o li mettete alle sale però siccome fa caldo e questa è una bella pasta e fagioli estiva vi consiglio di prendere una buona marca di quelli la nel barattolo quando li mettete in un recipiente mi raccomando non buttate il sughetto all'interno e ovviamente per fare la pasta e fagioli alla napoletana vi servirà la pasta mista ora vediamo come procedere e vi servirà anche se volete del pecorino romano e del parmigiano reggiano questa pasta e fagioli e in bianco cominciamo a tagliare il guanciale allora per due persone io ne uso metà quest'altra metà la conservo mi faccio una bella pasta e piselli e qua tagliamo prima all'istarelle poi lo tagliamo a cubetti dopo aver tagliato tutto il guanciale ecco qua laviamo e puliamo il nostro la nostra cipollina novella la tagliamo a metà e la facciamo bella sottile attenzione sempre alle mani ecco qua la cipolla va messa intera nella casseruola aggiungo un filino d'olio extravergine e poi dopo metto il guanciale e lo faccio rosolare poi minutini e il guanciale sarà rosolato direi che a questo punto il nostro guanciale è pronto adesso verso al suo interno la cipolla quando la cipolla sarà diventata bella appassita e imbiondita a questo punto possiamo versare anche i fagioli al suo interno una volta versati i fagioli con una forchetta metà dei fagioli li schiacciamo così diventano molto più cremosi e si attaccano meglio alla pasta e non vi dico direi che i nostri fagioli sono pronti a questo punto possiamo versare al suo interno l'acqua per cuocere la pasta vi consiglio di versare un po di acqua in più dopo vi spiegherò il perché vi ho consigliato di versare un po acqua in più perché se dovesse servirci dell'acqua durante la cottura possiamo aggiungerlo dalla pentola in questo modo quando inizia a bollire versate il basilico adesso prelevate un po dell'acqua di cottura e mettete da parte che se la pasta e fagioli dovesse seccare noi la aggiungiamo man mano perché a volte succede che secca e si usa l'acqua del rubinetto e non va bene perché rompe tutti i sapori facendo in questo modo avremo una pasta e fagioli sempre gustosa aggiusto di sale e verso la pasta a suo interno man mano che la pasta cuoce ogni tanto giriamola ecco qua pochi minuti e la pasta è quasi pronta vi consiglio di farla riposare prima di servirla perché la pasta e fagioli riposata è più buona una volta che è riposata aggiungiamo al suo interno del parmigiano reggiano e del pecorino romano ecco il risultato bella attaccata attaccata è buonissima guardate che meraviglia questa è una signora pasta e fagioli io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta alla prossima